Benvenuti in questa serie di video che fanno parte del progetto che abbiamo portato avanti con InSafe. Di cosa parleremo? Attraverso un calendario percorreremo la storia dell'astronomia a partire da Stonehenge fino al James Webb Telescope e lo faremo attraverso 12 video accessibili tramite un QR code presente su ogni mese dell'anno. Questi video non sono pensati per essere delle lezioni universitarie, bensì dei video brevi per suggestionare ulteriori ricerche e farvi scoprire un mondo talmente vasto che magari alcuni di voi non immaginavano nemmeno fosse possibile. Ma ora, banda alle ciance e iniziamo!